e che ci lasciamo con l'innovato appuntamento per la prossima volta. Prego l'edizia. In cui entra? In cui entra, sono? E mi domando perché? Risposta? Non c'è. Cerco tra le pieghe del mio respiro affermoso e vedo solo un sogno, solo sofferenze e affanze. Poi lo sbocciai nel cuore, mi sorriso di un vento, un'amba raggosa, regalano speranza nel cuore. Sono meno in un vieto. Oltre a tutte queste cose belle che ti hai nominato, che ti danno le tizie e gioia, ci sta anche il nostro pubblico, è vero? Il pubblico che noi ringraziamo, ringraziamo soprattutto... Soprattutto perché siete veramente in tanno. Siete in tassi e per me è una manifestazione... Ma vuoi dire perché non lo si fa? È una manifestazione di affetto. E voglio dire che questa cosa ci ha tolmuto, ci ha tolmuto la casa di Dio, perché dobbiamo essere sempre uniti, ci dobbiamo volere bene, ci dobbiamo dare una mano, non dobbiamo avere per tutti l'acqua. Oggi siamo in diffidenza, non è vero che l'abbiamo fatto in 10 anni, in molti casi ci ha peggiorato, ma noi dobbiamo darle sempre, dobbiamo sempre prendere una mano, anche se spesso e volentieri non abbiamo la proposta possibilità, ma noi dobbiamo dare la nostra strada, prima che il suo posto è stato in diretta un'altra. mi ringrazio. Io non volevo, se Padre Pietro ritiene, di voler dire un piccolo saluto. Padre Mario, Vabbè, comunque, ringraziamo lo stesso, perché veramente... Noi ringraziamo, siamo felici di esserci ritrovati tutti quanti stasera a Santa Teresa, e speriamo di rivederci presto, sempre per proporre delle cose belle, degne della vostra attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.